Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale e benvenuti in quest'ultimo video del 2021. In questo video, come ho fatto lo scorso anno, vedrete delle clip inedite che ho fatto durante tutto questo anno. Quindi ci saranno alcune clip parlate, alcune clip non messe nei vlog, altre cose che ho ripreso, eccetera. E questo, come ho detto, è l'ultimo video di quest'anno, perché è un po' il video per farvi gli auguri, per augurarvi un buon fine 2021 e un buon inizio 2022. Nooo Guardate Oddio, uno sci Che bello, guarda la montagna col sole Dio Ando 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dunque, praticamente il paese fantasma è davanti a me, c'è scritto dal GPS 30 metri, però non si capisce dove è la strada. Io sono già anche caduta perché qua è tutto così, non mi sono fatta niente, però ho preso uno scivolone tipo perché è tutto pieno di foglie. E niente, 30 metri mi dividono dal paese fantasma, ma mi sa che devo abbandonare e tornarci indietro perché non lo so, la vedo molto complicata la cosa. Grazie. 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 che carino 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 che carino